amici del canale youtube gianlucarossi tv ma anche del sito www.gianlucarossi.it dai si gioca ci siamo stiamo contando le ore il countdown ha iniziato partono i bianconeri e il rosso neri ovvero juventus milan i nostri rivali allora adesso voglio lanciare un'operazione benefica perché il mio canale youtube signore e signori e anche il mio sito serve anche per lanciare operazioni benefiche in attesa di sapere se io con l'inter passerò al san paolo di napoli e mi qualificherò per la finale cosa che non è per niente facile non è per niente facile perché se andate a vedere nell'anno 2020 l'inter beccava sempre gol solo con l'udo gorez la perché l'ha preso anche qua e solo con l'udinese non ha preso gol perché poi un gol lo prende sempre quindi se pensiamo di andare a napoli fare due gol passare belli sì se prendiamo un gol ne facciamo due passiamo ma è tutto da vedere che noi si vada in finale e poi se in finale troviamo la juve ragazzi due volte su due la juve ci ha dato dobbiamo dire la verità una lezione di calcio quindi arrivi in finale se poi perdi con la juve non ti piace ed è per questo che io lancio l'operazione ufficialmente la lancio voi sapete che cos'è il teleton televisivo no un po tutti insomma ci si mette insieme per dare una mano a chi in questo momento ne ha bisogno e allora la mia operazione l'operazione milanton tira fuori il rosso nero che c'è in te lo so capisco che voi in questo momento vedete la maglia rossa dell'inter ma vedete il bordino nero dai c'è un po di bordino nero io purtroppo di rosso nero c'ho solo questo quindi non potevo far altro lanciando l'operazione milanton tira fuori il rosso nero che c'è in te riuscite a vedere naturalmente il bordino nero dai più o meno vicino al rosso lo so che una maglia dell'inter e che i miei cugini di campagna che a cui voglio tanto bene si arrabbieranno ma io questa volta sono con voi cioè io juventus milan mi metto lì e dico forza vecchio cuore rosso nero dovete farcela lo so che quando andate la beccate sempre ma dai non c'è il pubblico in fondo un venerdì a doha avevate vinto ce ne sono tre di superstiti di doha tre donna ruma romagnoli buonaventura i tre superstiti di doha si inventino qualcosa un mp3 con musica araba lì nello spogliatoio dei figuranti vestiti da cammelli delle hostess dell'emirates cerchino di ricreare visto che era venerdì anche a doha e sarà venerdì anche stavolta cerchino di creare un po di atmosfera di doha fingano non devono pensare che sono a torino al j stadion dove li mazzolano sempre devono creare un'atmosfera insomma l'operazione milanton anche per interesse peloso io lo ammetto dell'inter passa obbligatoriamente da una finale in cui i ragazzi rossoneri riescano ad arrivare lì in fondo dovete farcela ragazzi mi raccomando ragazzi nerazzurri per una volta sosteniamoli parte ufficialmente dal vostro gianlucarossi sul canale gianlucarossi tv e sul sito www.gianlucarossi.it l'operazione milanton tira fuori il rosso nero che c'è in te ciao a presto